C'è io da mose tastiera gioco da giugno quindi c'è relativamente gioco da poco più o meno no fidati che se io avrei la possibilità economica di comprarmi un pc io me lo comprerei e giocerei da mouse tastiera. Adesso perché sulla play sinceramente non ha tanto senso giocare con mouse tastiera. C'è un po' di di lei. E però il joy sulla play c'è il delay a differenza. No non si può il delay è proprio una cosa del lo sapevo. C'è gente oi 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 oi. Eh mi hanno cecchinato. 29? 28? Ho perso tutto lo scudo madonna. Ne ho io di scudi ti rilascio qua. Avanzo. Parliamo dopo che ne abbiamo finito di faiutare. C'è 30 no scudo? C'è 30 30 già fatto? Buono. Vai ti copro da dietro. E' qua dentro. Vai aspetta aspetta fermo fermo. Vuoi uccidere a te? No no no. E' qua sotto le stale. E' un bot. atterrato. Vai duvito il shield. Vabbè li ho lasciati la indietro gli shield. No li ho presi li ho presi. però. Allora tieni. Allora tieni. Grazie. Chiudimi. Chiudimi. Fammi il muro. Perché non era da solo molto probabilmente tra un secondo blu. Oh nonno blu. Vabbè qui c'è un nonno blu. Buono. Ciao. Andiamo a vedere se c'è qualcun'altro. adesso il computer mi sa che lo vedo per dicembre. Aspetta un attimo che mi prendo sto medikit. Adesso il computer vedo di prenderlo per il prossimo. Non questo Natale che viene ma il prossimo. Esce la play 5 il prossimo Natale. Sì ma la play 5. Cioè. No io rimango sicuramente su pc. Cosa dice enjoy? Affidati. Io l'ho sempre detto. Il pc e la play sono due cose diverse che non si possono paragonare. Ma guarda che la play. Cioè scusami. La play adesso. Lo prendi a pezzi a pezzi. Eh appunto. Il computer alla fine. Vai da un negozio magari. Ma vai. Tu l'hai montato tu il tuo pc. Io l'ho preso. No. No. Ho preso quello della msi. Oh mi sparano. Eh vabbè. Da dove? Io l'estate prossimo me l'ho. Vedo uno. L'estate prossimo. Mi prendo la moto. L'altra gente. Sì. Ahia. Ah ma sì. Ok fatto fatto. Però mi sparano ancora. C'è tantissima gente qua. Ce n'è uno lì dentro la fattoria. Camperato lo schifo. Prendo io. Sto pino avanti. Sto io ho la mitragliata blu se vuoi. Sì. Lì sotto. Guarda che c'è altra gente. Sì. Vedo. Vedo. Ah che sono tattarato. Bravo. Altra gente. In fondo là. Sì sì li ho visti li ho visti. Adesso. Ok ma hai dato la kill. Fatta che mi prendo il brutto che sto senza. Non si anziani non pusharli. Prendi gli scudili. Prendi gli scudili. Mi hai rubato tutto. Vabbè c'era solo. Tu sei bisogno di colpi e pompa una 113. Vai vai vai. Lascia. Guardati la metà. C'è 96 di pino connessione del burundi. Eccolo eccolo. Una terra. Buono. Io sto laggando. Sento proprio tutto che mi va a scatti. Cassa. Carezzando. Lo sapevo. E' vittima faccio un attimo il medicoop. Copri. Sì sì resisto. 31 blu. Scusa se... Sto potendo colpare. Ok vai ci sono. Ok. I tepi 31. Uno finito. Do me. Arrivo. Mano mano mano. Aia. Dove? Sopra. E ci sono gli altri che spammano e rompono. Salgo salgo. E' cacca. Ah non devi salire. Tra il primo la gioco da basso. Quella c'è il pompa bello però mi fa paura perché c'è 100 di vita giusto. Ma vai io me la fa ipo. Ma quello lì ti ha dato la kill Ricky quello che mi è andato a terra. Sì sì l'ha ucciso. Non farti sentire. Lascia lì ad andare via. Vabbè ormai. Eccolo. Bravo. Eccolo.